Le piogge, gli eventi, le precipitazioni molto insistenti delle ultime settimane del mese di maggio, quelle in corrispondenza dell'alluvione dell'Emilia Romagna, hanno sensibilmente aggravato il fenomeno, accelerato i movimenti franosi, questi sono stati registrati dagli strumenti che erano stati sistemati in precedenza proprio per tenere sotto controllo la situazione, ci sono almeno una mezza dozzina di grossi condomini, edifici importanti, di parecchi piani e di decine di appartamenti che sono già stati o svuotati o sono in pericolo e quindi presentano lesioni che continuano a preoccupare, ora anche due scuole che si è dovuto chiudere, peraltro parlando con i tecnici non escludiamo che la soluzione definitiva possa anche essere una soluzione radicale che è quella della delocalizzazione di questi insediamenti perché poi, ripeto, sono gli ingegneri che alla fine dettano legge, come è giusto che sia, e che ci dicono in quali condizioni di sicurezza possano o non possano rientrare i cittadini nelle loro case o gli studenti nelle scuole. Ora stiamo terminando di raccogliere il dossier perché non c'è solo Chiedi, c'è Bucchianico, c'è Villaceliera, ci sono diversi luoghi d'Abruzzo, può sembrare e lo è insomma una briciola rispetto all'apocalisse che è capitata in Emilia Romagna ma anche in Abruzzo queste piogge insistenti e queste inondazioni hanno provocato danni e credo che tra domani e dopodomani, comunque entro la settimana verrà spedita a Roma la richiesta di intervento, di dichiarazione di uno stato di calamità e di emergenza che ci possa anche far accedere a dei fondi per poter intervenire e supportare le amministrazioni comunali.